Siamo con Carlo Pratichetti, nuovo allenatore dei Cavalieri. Primo giorno di lavoro, che stagione e cosa vi attende in questa annata per i Cavalieri? Guarda, è un'annata meravigliosa, sono molto contento di stare qui ai Cavalieri Prato e sicuramente sarà un'annata eccezionale. Da un punto di vista di obiettivi, che cosa vi siete detti insieme alla società? Quali sono gli obiettivi di questa squadra? L'obiettivo minimo è sicuramente di far crescere i molti giovani che sono arrivati quest'anno, i giocatori nuovi. È difficile porre degli obiettivi in una società dove per due anni consecutivi è arrivata ad un passo dallo scudetto. Però comunque cercheremo di fare il meglio del meglio che possiamo fare. Che tipo di gioco invece vedremo? Il campo per quanto riguarda i Cavalieri? Qualcosa forse cambierà rispetto all'anno scorso? Un gioco come giocherà la sua squadra? Sicuramente metteremo molta attenzione sulle fasi di conquista, mischiettusce. Io vorrei una squadra dove tutti i giocatori riescano a leggere la stessa situazione, nello stesso momento. Questo è il mio obiettivo.